rifacciamo capolista capolista perché il milano è a 9 punti allora noi volevamo fare così una piccola gufata no vero la roma ce lo siamo tolti dalle balle murigno come fa murigno ce lo siamo tolti dalle balle il napoli ieri cosa ha fatto il napoli ha perso quindi che vi è andato anche bene che alla lazio gli hanno annullato due gol e uno di quei due secondo me era regolare se no buscavate bene la juve non la consideriamo neanche perché squadra di merda manca l'inter quindi oggi l'inter gioca con la fiorentina ecco noi volevamo lanciare una piccola gufata no vero manu tanto sappiamo che oggi vincete vero oggi vincete facile vero oggi vince facile l'inter ma sì oggi l'inter vince date tranquilli però però non si sa mai perché non succede ma se succede che buscate dalla fiorentina mi basta anche un pareggio noi cosa facciamo andiamo in fuga e se ne va la capolista se ne va però di partecipare al video cioè non è che io posso fare tutto io devi partecipare al video 1 2 3 e se ne va la capolista se ne va quindi noi non è che vogliamo gufarla tanto oggi vincete però mancate solo voi tre pere tre pere non si sa mai che prendete tre pere come dice emanuelino ci aggiorniamo stasera però mancate solo voi vi voglio bene a tutti